È un video serio, è un video sfogo ragazzi, è un video serio, è un video sfogo. Vi giuro, vi giuro, vi giuro, mi vien da piangere, vi giuro, vi giuro che mi vien da piangere. Sono demoralizzato, sono demoralizzato perché sapete tutti che la decisione che ho preso l'ho presa, ma sono demoralizzato, a parte il fatto che adesso devo aspettare per il rinnovo del passaporto, il 2 ho l'appuntamento in questura per portare i documenti, poi vediamo, spero che me lo fanno abbastanza in fretta, spero, spero, il 2 dicembre devo andare per il rinnovo perché mi scade il passaporto a marzo 2024, ma sono deluso perché ho nella mia cernita, nel mio focus, un quattro paesi dove potermi trasferire e sapete che comunque quando fai delle scelte definitive non è come andare a vivere in Germania o in Spagna. Cioè io ho una famiglia che conoscevo che sono andati a vivere in Canada, da amico mio con tutta la famiglia, ho dovuto aspettare documenti e cose. Mi sto informando sul web e trovo informazioni che non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Cioè chi dice una cosa, chi dice l'altra, mi sono rivolto pagando anche bei soldi a qualche studio così commerciale, avvocati, esteri, internazionali, ma non ne vengo a una, non ne vengo a una, cioè sembra che sto buttando via i soldi. Mi vengo a piangere ragazzi, sono deluso, io sono veramente deluso, ma prima o poi troverò qualcuno in gamba serio che mi possa assistere per quello che devo fare, perché ragazzi, vi ripeto, ripeto, io ho vissuto già all'estero, sia in Europa che fuori dall'Europa, se decidi di fare un passaggio come faccio io, non è così semplice, ripeto, non è così semplice. Un conto è andare a fare una vacanzina, un conto invece è proprio trasferirsi tutto, io ho già spiegato per tutti i motivi per cui mi voglio trasferire, oltre al fatto di varie situazioni, anche perché, come ho detto nel video precedente, vedo la gente veramente spinta, a parte questo, veramente, devo cambiare aria. Mi sta stretto, il mondo è troppo grande per vivere tutta la vita in un posto. E sono deluso, sono deluso, sono veramente deluso, ragazzi, mi viene da piangere, mi viene da piangere, perché muoversi così veramente, mi sento quasi preso in giro, cioè sembra che sono lì a... Sì, pagami, dai, che ti spiego, e poi dopo il tutto soldi, il tutto soldi. Io so, so che i miei delatori, i miei haters saranno lì, ecco l'ambrenedetto, sta già facendo il passo indietro, ecco di qui, ecco di là. No, 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 mi state sbagliando, non mi do per vinto, la decisione l'ho presa, indi per cui aspetto il rinnovo del passaporto e dopodiché partirò, 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 partirò e sistemerò le cose come devono essere sistemate, cioè troverò qualcuno che mi dia assistenza, informazioni, serietà. Lo pagherò, anche perché adesso, ragazzi, io sto buttando via soldi, perché qui mi arrivano informazioni random, ma poi anche informandomi per i cazzi miei le gommane di cretinate. Indi per cui, indi per cui, se voi pensate, perché io già leggo i commenti di compagna varia, ecco, l'ha benedetto, le solite cose, assolutamente no, 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 no. Io sono deluso, sono deluso, lo dico, sono deluso, sono deluso. Cioè, sembra quasi la situazione dell'italiano che va in Germania. Cioè, l'italiano che va in Germania, io lo dico perché vi racconto anche questo episodio, cioè, a differenza magari di altri che quando vanno all'estero i connazionali comunque ti aiutano, diciamo, perdere le canariche, stendiamo un vero pietoso, perché lì, mamma mia, cioè, sono giù uno più furba che l'alto. Cioè, in Germania, io che ci ho vissuto comunque più o meno quattro anni, ma anche l'ultima volta, cioè, non vedo questo fratelli d'Italia, altruismo, cioè, addirittura io avevo trovato posto di lavoro ad un ragazzo in una fabbrica e c'erano queste due italiane che gli parlavano a lui in tedesco e a un altro che era straniero che però sapeva l'italiano, era romeno, gli parlavano in italiano. Cioè, lo facevano cosa per metterlo in difficoltà. Cioè, io trovo che nell'espatriare, nell'espatriare, purtroppo, cioè, molti di noi italiani vanno via all'estero per tutta una serie di motivi. Non è che ce ne andiamo dall'Italia chi decide perché non si mangia bene, non è un bel posto, per tutta una serie di motivi, ok? Cioè, nessuno mi è scritto che io per forza devo vivere tutta la mia vita in un posto. Però io noto che quando noi italiani, tra virgolette, spatriamo, cioè, dalla parte opposta, c'è tutta una serie di furbacchioni che sono lì, che sembra, capito, che sono lì solo interessati a prendere soldi per consulenze fake e tu poi rimani col cerino in mano da quelli che magari vanno, pensionati che migrano magari in Portogallo o che vanno alle Canarie o gli italiani che vanno all'estero. Io mi rendo conto che forse dovrei comunque partire lo stesso e in loco poi magari trovare la situazione giusta stando lì, magari, non lo so, devo valutare un po' di cose. Sono deluso, sono deluso, sono deluso, mi viene da piangere, mi viene da piangere, ma se voi pensate che io mi do per sconfitto, mi do per vinto, avete sbagliato tutto, avete sbagliato tutto. non è da me darmi vinto, assolutamente, assolutamente. Quindi adesso stiamo in stand-by, aspettiamo il rinnovo del passaporto, perché ragazzi, senza passaporto non posso andare da nessuna parte, anche volendo in questo momento, perché mi scade a marzo 2024, quindi il passaporto devi comunque avere una scadenza per partire con un'abilità di sei mesi, speriamo, speriamo che, speriamo che me lo facciano abbastanza in fretta, ok? E nel mentre, nel mentre preparo tutte le mie cose, ragazzi. La decisione è stata presa, non si torna indietro.